Buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa a caccia dei dividendi. Oggi parliamo di quelle che secondo me, secondo la mia umilissima opinione, possono essere le migliori azioni da dividendo quotate sul Fuzzimib. Poi, se vi piace la cosa, scrivetemi nei commenti se vi interessa anche vedere quali sono le mie opinioni sulle migliori azioni da dividendo, sempre italiane ma a media e piccola capitalizzazione. Eventualmente ci faremo un altro video, perché secondo me esistono bellissime aziende anche al di fuori del Fuzzimib. Il Fuzzimib, lo sappiamo, è molto concentrato sui titoli finanziari, alcuni energetici, e andiamo a vedere quali sono le azioni con il maggiore dividend yield. Ho scelto quelle superiore al 3%. Andremo a vedere qual è il trend del dividendo, perché a me piacciono dividendi crescenti nel tempo. Farò alcune considerazioni molto molto personali, e qui si entra veramente nel soggettivo e non all'oggettivo, sul settore di appartenenza, e poi altre considerazioni varie. Seguitemi fino alla fine, perché poi metterò un'azione bonus, che non è all'interno di questa lista, è sempre del Fuzzimib, e che ha visto una crescita veramente spaziale del dividendo. Un'azione tra l'altro che è presente nel mio portafoglio. Sapete che io sono un amante delle azioni del dividendo, ho molte azioni italiane, perché sono inserite dentro al PIR, e quindi non ho tassazione sul dividendo. Io tra queste della lista, ve lo anticipo, praticamente le ho tutte, ad esclusione di Azimut. Andiamo quindi a vedere, senza fare necessariamente una classifica, però se il rendimento da dividendo è sotto gli occhi di tutti, e quindi è possibile fare una classifica, il trend nel tempo del dividendo è sotto gli occhi di tutti, e quindi tecnicamente si potrebbe fare una classifica anche per quello, altre considerazioni rimangono invece nella soggettività di ognuno. Partiamo dall'inizio, quindi partiamo dai dividendi più alti. Allora abbiamo sicuramente Intesa San Paolo con un 10% abbondante di dividend yield nel momento in cui sto facendo il video. Poi abbiamo Enel con un 7,03, Mediobank con un 7,17, Posti Italiane con un 6,70, Eni con un 6,51, il suo dividendo trimestrale, Italgas 6,10, poi con un 5% circa A2A, Azimut, Fineco Bank, e assicurazioni generali. Un pochino sotto abbiamo Terna con il 4,28, abbiamo Era con un 3,88 di dividend yield. È bello vedere anche qual è la copertura, quindi quanti utili vengono generati per ogni azione a fronte del dividendo unitario. Allora, per A2A, a fronte di un dividendo di 9 centesimi, l'utile è di 19 centesimi, quindi ampia copertura. Era abbiamo dividendo di 13 e utile di 27 centesimi. Eni, dividendo di 0,92, utile di 2,31. Mediobanca, 0,85, 1,52, intesa 0,30, 0,46. Snam, 0,28, 0,36, quindi per chi dice che Snam ha un payout superiore a 100%, dividendo 28 centesimi, lo ripeto, è utile 36 centesimi, stima per l'anno. A venire, Azimut, ottima copertura, 1,30 contro utili di 3,14, buona la copertura anche per Italgas, 32,58 centesimi, Fineco, 69 di dividendo e 94 di utili, Post 68 di dividendo 1,45 di utili, Terna, 32 di dividendo 48 di utili, Generali, 1,16 di dividendo 2,42 di utili, Enel, 42 di dividendo 67 di utili, quindi sono tutte aziende con payout, decisamente inferiori al 100%. Questi dati sono tutti raccolti tramite la watchlist di Yahoo Finance, tra l'altro è presente anche per i miei sostenitori Gumroad una watchlist personalizzata con azioni italiane e non solo, soprattutto quelle americane che mi piacciono tanto, perché sono aziende più attente ai dividendi. Quindi dal punto di vista della copertura del dividendo, mi piacciono tutte, le ho inserite in questa lista proprio per questo. Dividendi alti e copertura buona. Facciamo un pochino un'analisi del settore. Allora, qui entriamo chiaramente nei pareri personali. A me piacciono le utilities, perché sicuramente nell'ultimo periodo potrebbero avere avuto utili, sicuramente un fatturato, ma anche utili leggermente sopra la media per via dei rincari, dei prezzi energetici. Potrebbe essere che qualcuno ha un pochino ballato nel manico, c'è concorrenza, ma relativamente fittizia. E c'è da dire che molti di questi utility lavorano anche in settori dove in realtà non ci può essere concorrenza, ad esempio quella dei rifiuti e settore acqua. Se voi volete cambiare gestore dell'utenza dell'acqua, non potete, è quella. Per ogni provincia, io non penso che io sappia, non si può cambiare gestore dell'acqua. Si può cambiare quello della luce, del gas, io lo faccio tra l'altro ciclicamente per avere le migliori tariffe, ve lo consiglio, però sull'acqua non è possibile. A2A e ERA, ad esempio, operano nel settore dell'acqua anche. Enel già è più esposta sull'energia, è però molto avanti nella transizione ecologica. TERNA e SNAM sono utility, così come Italgas, ma in realtà operano in settori praticamente di monopolio. Andate voi a trovare un concorrente di TERNA in Italia. Fa trasporto di energia elettrica. SNAM e Italgas sono specializzate nel gas, nell'idrogeno, e altro anche, però, cioè, come fa un competitor a entrare in questo settore. A parte che, dal punto di vista legislativo, non so neanche se è possibile. Ma poi ci vorrebbe un'infrastruttura tale che ci vuole un capitale enorme per poter raggiungere le infrastrutture di SNAM. Per quanto riguarda poi il settore finanziario, le banche non sono strettamente tra le mie preferite perché sono molto legate al ciclo, ai tassi, tuttavia, intesa, è comunque la maggior banca italiana, sta macinando utili pazzeschi in qualsiasi condizione di mercato, anche nel 2020, in periodo Covid, era riuscita a fare utili veramente importanti. Meglio banca, è una banca ma, ok, con il suo ramo che banca, opera nel settore retail, però è anche una banca d'affari e fa molto bene il proprio lavoro. Fineco, è una banca ma si occupa anche e soprattutto di gestione dei portafogli. Azimut, anche qui, gestione dei portafogli, ho qualche dubbio in più su Azimut. Se su Fineco e Mediobanca sono abbastanza positivi perché hanno un business che mi piace, su Azimut non lo so, è un business secondo me più facilmente attaccabile. Questo è un pochino la... Ah no, manca assicurazioni generali, le assicurazioni mi piacciono, le assicurazioni mi piacciono e generali è sicuramente leader nel proprio settore in Italia e ha comunque ramificazioni anche all'estero. poste e poste fa un po' di tutto, banca, assicurazioni, spedizioni, ha comunque un settore di monopolio su alcune cose o quasi, alla fine nonostante i servizi non siano eccezionali ha comunque sempre un certo appeal nei paesi piccoli perché ha una grande posizionamento dal punto di vista geografico è praticamente ovunque e appila anche nelle fasce più anziane della popolazione poi manca Eni settore petrolifero ma non solo secondo me sarà protagonista nel settore della transizione energetica quindi petrolio ma anche tanta energia gas ci punto abbastanza su Eni in questo momento è ancora abbastanza legata al prezzo del petrolio però nel lungo periodo secondo me sarà protagonista nel mondo nel proprio settore andiamo a vedere un pochino l'andamento dei dividendi partiamo da A2A possiamo vedere come dal 2009 no partiamo un pochino più avanti 2009 poi è iniziato a tagliare il dividendo partiamo dal 2012 in avanti aveva un centesimo virgola 3 di dividendo e l'ha gradatamente aumentato anno per anno che qui sono schermati di borsa italiana ve lo potete andare a vedere anche in autonomia nulla di misterioso anno per anno l'ha gradatamente aumentato solo l'anno scorso ha mantenuto il dividendo costante quindi oltre 10 anni però di aumento dei dividendi o quantomeno di dividendi non tagliati anche durante la pandemia ha aumentato il dividendo molto bene era e qui entriamo in una delle migliori azioni del dividendo nonostante abbia un yield più basso però partiamo dal 2008 in avanti non ha mai tagliato il dividendo da 8 centesimi o l'ha mantenuto costante oppure l'ha aumentato e siamo arrivati agli attuali 12 centesimi virgola 5 molto bene quindi per era passiamo a Eni Eni ha avuto un dividendo più ballerino nel corso del tempo è passato da distribuzione annuale a semestrale a trimestrale ha avuto un taglio del dividendo quando il prezzo del petrolio in 2020 era sceso parecchio anche per politica il dividendo adesso ha adottato una politica un pochino diversa con un minimo però se il prezzo del petrolio dovesse per un motivo o per l'altro tornare a livelli molto bassi secondo me il dividendo diventerebbe insostenibile e quindi verrebbe tagliato come è da successo in passato tuttavia insomma un dividend yield importante la distribuzione trimestrale fa sicuramente piacere non è diciamo al top della classifica per la costanza del dividendo nel corso degli anni Mediubanca distribuisce il dividendo una volta all'anno a novembre perché ha una chiusura del bilancio a giugno di ogni anno quindi non chiude il bilancio a dicembre e per questo stacca il dividendo a novembre questa è la motivazione di questa distribuzione particolare possiamo vedere come dal 2014 in avanti a discursione del 2020 anno in cui i dividendi erano stati sospesi per le banche dietro un'imposizione della BCE ha sempre aumentato il dividendo da 15 centesimi è passato 85 centesimi una crescita veramente esponenziale e questa cosa mi piace tanto mi piace veramente tanto questo non vuol dire che Mediobanca la voglia comprare a questi prezzi però è sicuramente un fattore da tenere presente in Tena San Paolo dividendo spaziale è il più alto superiore al 10% adesso lo distribuisce ogni sei mesi nel 2020 aveva sospeso il dividendo ma nel 2021 aveva gratificato gli azionisti con tre stacchi dei dividendi per recuperare quanto non dato nell'anno precedente dividendo in sostanziale crescita ma non sempre non sempre una politica di dividendo che sinceramente non mi piace tantissimo perché in Tena San Paolo intende distribuire se non ricordo male il 70% degli utili conseguiti 70-80% cosa vuol dire che se gli utili dovessero calare anche il dividendo scenderebbe sinceramente e personalmente preferisco magari un dividendo più contenuto ma che cresce gradatamente nel tempo questo perché mi aiuta a progettare meglio il mio futuro tuttavia ho acquistato in Tena insomma prezzi abbastanza validi e attualmente tra le azioni singole occupa la mia prima posizione anche visto la crescita importante del prezzo Snam una delle azioni che preferisco un settore quasi inattaccabile utili che vengono macinati alla grande e dividendo in crescita se prima del 2018 era un dividendo annuale poi è passato a semestrale in continuo aumento dal 2015 in avanti il dividendo è sempre cresciuto qui avete la lista non fatevi ingannare dal calo che c'è stato dal 2016 al 2017 perché c'era stato lo spin off di Italgas e quindi ovviamente il dividendo era sceso perché non c'era più il contributo di Italgas ma chi aveva Snam ha poi avuto azioni Italgas e ha avuto dividendi da questa azienda anche dividendi comunque che sono cresciuti gratamente nel tempo e hanno un piano di distribuzione di dividendi che prevedono aumenti di circa il 3% anno per anno dei dividendi molto bene grande attenzione quindi per noi azionisti Fineco Bank non è quotata da tantissimo tempo però con l'esclusione sempre del 2020 non ci ripetiamo banche che hanno dovuto sospendere i dividendi il dividendo è in continua crescita da quando ha iniziato a staccarlo ovvero dal 2015 ed è passato da 20 centesimi agli attuali 69 un'azione che ho inserito in portafoglio nella seconda metà del 2023 ci puntò abbastanza per avere una crescita del dividendo nel tempo non fatevi ingannare dal 2021 che ha avuto un dividendo di 53 centesimi comprendeva anche gli utili non distribuiti durante il 2020 quindi c'è stato quello sbalzo per questo motivo ok azimut azimut settore che non mi entusiasma dividendo importante ogni tanto stacca anche dei dividendi straordinari capita però divendo che non ha una costanza come piace a me è cresciuto sicuramente dal 2009 quando era 10 centesimi adesso siamo a 1,30 euro una crescita molto importante però dal 2000 e 17 in avanti siamo cresciuti solo da 1 a 1,30 e tra l'altro la sequenza dal 2017 in avanti è di 1 euro 1 1,20 1,1 1,30 1,30 quindi sì una crescita c'è stata ma la tendenza è stata non proprio entusiasmata almeno a me non mi entusiasma poi eventualmente ditemi la vostra nei commenti poste italiane poste italiane una bella storia anche qui di dividendi in crescita siamo passati al dividendo semestrale e i dividendi li potete vedere sono continuamente in crescita quindi poste sta gratificando a fronte di utili in aumento utili che coprono bene il dividendo sta gratificando i propri azionisti con dividendi che crescono nel tempo siamo passati da 34 centesimi del 2016 agli attuali 65 centesimi distribuiti nel 2023 contando anche l'acconto di novembre 2022 novembre 2023 c'è stato un altro acconto in aumento rispetto all'anno precedente e aspettiamo il saldo a giugno di quest'anno molto bene quindi poste non ha una storia lunghissima di quotazione meno di 10 anni però la storia dei dividendi è molto positiva quotazione breve anche per i talgas perché lo spin off è stato nel 2017 quando è stata staccata da snam dividendo che è continuamente aumentato non ha visto soste in qualunque condizioni di mercato è passato da 20 centesimi a 31 centesimi virgola 7 dell'anno scorso che dire speriamo che continui così gli utili le stanno dando ragione business che mi piace tranquillo senza particolare volatilità di quelli che piacciono a me in pratica delle obbligazioni ad alto rendimento con cedola crescente e anche una moderata rivalutazione del capitale affidabile affidabile possiamo dire terna è leader come azienda è forse quella che preferisco perché è un settore inattaccabile il prezzo è abbastanza alto abbastanza tirato secondo me però una storia di dividendi eccezionali possiamo andare indietro nel 2014 ma anche più indietro dividendi che crescono anno per anno distribuzione semestrale con la distribuzione dell'anno scorso siamo a 31 centesimi circa nel 2015 eravamo a 20 centesimi e è stato un aumento di oltre il 50% in meno di 10 anni del dividendo molto bene e prezzo che sta crescendo veramente in maniera pazzesca guardatevi il grafico a 10 15 20 anni è qualcosa di eccezionale generali assicurazioni altro colosso nel proprio settore quotazione non è a sconto non è carissima prezzo comunque che sale gradatamente nel tempo volatilità abbastanza contenuta e dividendo che sale c'era stato uno stop un pochino nel 2020 sempre in fase pandemica per precauzioni insomma le assicurazioni potevano comunque distribuire i dividendi ma per precauzione hanno preferito mantenere in cassa un po' di dividendo in più poi distribuito in maniera straordinaria a ottobre dell'anno successivo nel 2021 e il dividendo è comunque in aumento da tantissimi anni possiamo partire tranquillamente dal 2012 quando erano 20 centesimi è passato poi a 45 60 72 80 85 90 101 107 1 e 16 l'anno scorso e quest'anno dovrebbe essere visto ancora in aumento il dividendo eventualmente faremo un recap possiamo andare indietro anche al 2005 il dividendo era di 43 centesimi poi dopo è sceso però comunque è una grandissima pagatrice di dividendi generali Enel ha tagliato il dividendo in passato ma ultimamente ha intrapreso una strada di crescita del dividendo con distribuzione semestrale qui da andare a valutare un pochino la distribuzione c'era stato diciamo nel 2013 col 2014 un taglio da 15 a 13 centesimi poi è passato a 14 poi a 16 e poi è passato alla distribuzione semestrale con 18 23 28 32 35 38 40 centesimi quindi bel aumento del dividendo che è praticamente triplicato in 10 anni una storia insomma interessante del dividendo per quanto riguarda Enel passiamo all'azione bonus li abbiamo viste tutte passiamo all'azione bonus vi consiglio di ogni tanto di andare a pescare dentro alla composizione degli etf esiste l'etf spider euro dividend aristocrats copre diciamo le 40 società dell'euro zona a più alto rendimento con una politica di stabilità o incremento dei dividendi da almeno 10 anni consecutivi allora ci sono tutte quelle che sono dentro l'etf sono tutte fra quelle che ho appena analizzato quindi assicurazioni generali a 2a terna era ci sono due mid small come erg e buzzi e abbiamo anche ricordati ricordati fa parte del fuzzimib ricordati è presente nel mio portafoglio da dal 2012 12 anni circa rendimento del prezzo dell'azione molto molto buono guardate qua che crescita del prezzo dell'azione qualcosa di veramente eccezionale il dividend yield attuale del 2,26 non è particolarmente attraente ma guardatevi che crescita che ha avuto nel tempo qui siamo sul sito di investing allora stacca dividendi dal 92 quando distribuiva 260 lire per azione poi siamo passati agli euro e in sostanza stacca dividendi in crescita dal 2005 se vedo bene quando aveva distribuito 11 centesimi per azione poi è via via cresciuta 2010 2011 l'ha mantenuto poi per alcuni anni l'ha mantenuto costante rispetto all'anno precedente è passato a distribuzione semestrale ed è partita una crescita spaziale abbiamo detto che erano 11 centesimi nel 2005 in 20 anni siamo passati a 1 euro e 15 dell'anno scorso e quest'anno sarà ancora in aumento la conta è già stato dato a novembre vuol dire che è stato moltiplicato per 10 il dividendo in 20 anni e anche il prezzo dell'azione è salito in maniera pazzesca perché anch'io in questo momento faccio quasi un per 10 rispetto al prezzo d'acquisto me la tengo perché dividendi crescono se la vendessi dovrai pagare uno sbotto di tasse e mi evito volentieri di pagarle ok direi che per l'analisi di oggi abbiamo finito ditemi pure nei commenti qual è la vostra preferita è difficile scegliere sono tutte molto belle alcuni hanno alcuni pregi altri ne hanno altre alcuni difetti non so questi prezzi su quali potrebbe essere la mia preferita io ho qualche idea ce l'ho direi che per oggi abbiamo finito vi mando un saluto a presto da Lorenzo e ciao a presto a presto a presto Grazie a tutti.